Ecomed chiude ufficialmente i battenti e è il momento di fare un po' il bilancio di quella che ha rappresentato queste giornate, questi tre incontri che poi hanno visto grande partecipazione e già si lavora all'edizione del 2024. Sì, grande partecipazione di pubblico, le aziende sono abbastanza soddisfatte, devo dire che tutti gli eventi che abbiamo messo in campo sono stati straordinari a partire dalle giornate dell'energia, il villaggio green, l'area dedicata alle start-up e soprattutto l'area istituzionale con la partecipazione dell'Enea e dei vari dipartimenti delle università siciliane. Siamo già al lavoro per il 2024, gli espositori ci danno fiducia, ci dicono di rinnovare i contratti e soprattutto di internazionalizzare la manifestazione, infatti abbiamo intrapreso una serie di attività con ambasciate e consolate e consolati per espanderci ovviamente nell'area sud Europa, quindi guardare tutto il bacino del Mediterraneo. Immaginiamo che in questo momento ci stiano ascoltando tutti gli espositori che comunque hanno espresso il loro applauso, la loro felicità nell'essere presenti e nell'essere stati protagonisti di Ecomed. Ecco, l'ultimo pensiero lo rivolgiamo a loro. Io intanto li ringrazio perché la manifestazione ovviamente va avanti solo ed esclusivamente con il loro contributo di partecipazione e di sponsorizzazione dell'evento, ripeto oggi grande soddisfazione dopo tanti anni che abbiamo fatto questa manifestazione riceviamo solo ed esclusivamente feedback positivi, quindi sempre ovviamente restando con i piedi per terra dico che ci sono tutte le condizioni per una grande edizione del 2024. Grazie a tutti.